www.mesmerism.info Oh! Ma Gesù l'ho rinvazzato, cosa hai successo? È sofferenza da me. Rosso sta manando un manicomio e ha chiesto. Ha parlato. Hai fatto un'astronzato, Sancho? Ma tu hai pensato che ho pagato per forza? Non lo so, non lo so. Invece sì, Pino. Una questione è scelta. Allora se hai scelto, se ce la fai? No. Fino a quando sapessi il regolo del sistema, no? Ma che buonissimo, Fabio. Ma potevi far pagnare, eh? Non lo so, Pino, che posso fare per pagnare. Carmine, ma pensa a figli tuoi. Che è meglio. Ma tu veramente viro a Rosa Ricci, mamma e figli. Eh? Eh, non piace. Voi ci ricordi qua subito. Buongiorno. Ma che penso? Che a volte è difficile fare cosa giusta. Quale cosa giusta? Esiste solo la cosa giusta per te. Sei felice con gli uomini, non è così semplice. Tu perché sei lasciato a Carmine? Per un attimo ci credo che questa storia poteva essere possibile. Dipende solo da te? Forse non ho la vita, Silvia. Tu perché sei troppo tardi? Non puoi fuggire dall'amore vero, Rosa.